Festa dello sport al circolo antico tiro a volo in via Vaina a Roma. Il presidente Michele Anastasio Pugliese ha salutato i giovani che frequentano le scuole di nuoto e tennis. Si è congratulato con i tecnici per i brillanti risultati raggiunti. Ha dato il via alla premiazione di tutti gli atleti che rappresentano l'antico tiro a volo nel fitness, ginnastica, biliardo, calcio a 5, tennis, nuoto ed automobilismo rappresentato dai quotatissimi fratelli Ghirelli. Il campionissimo Daniele Masala si è congratulato con Claudio Mazzoni, Giuseppe Centro e Fausto Gullo per l'organizzazione della splendida serata sportiva che ha visto sfilare i ragazzi delle scuole tennis e nuoto che hanno presentato la linea sportiva del club antico tiro a volo. Il campionissimo Daniele Masala